Bentornati. Allora oggi parliamo dell'ultimo pasticcio che ha combinato Prassido e Domingo, ultimo di una serie. Specifico subito che non parlerò della questione delle molestie, delle varie denunce che sono in atto e non ne parlerò per una serie di ragioni. Innanzitutto perché fino a prova contraria io ritengo che uno sia innocente finché non viene appunto condannato in via definitiva per la cosa per cui è stato accusato. Secondariamente non mi interessano queste questioni, in questo canale parlo di musica e quindi mi limito alla musica ed evito francamente di parlare di queste situazioni anche un po' squaliducce. Allora cosa è successo? È successo che Domingo è stato invitato come direttore a dirigere un concerto al Festival di Verbier in Svizzera. Il Festival di Verbier è un festival importante dove vengono chiamati solisti e direttori di peso, di carattura internazionale e che ha un'orchestra diciamo così giovanile ma di altissimo livello e di altissimo valore. Diciamo che già il rapporto è partito male nel senso che l'orchestra ha fatto le prime prove con l'assistente di Domingo. Questa cosa di per sé non è come dire così strana e così anzi spesso i grandi direttori internazionali soprattutto magari sono un po' avanti con l'età tendono a far dirigere le prime prove all'assistente. Io dico sempre se volete cercare un direttore bravo andate a vedere chi sono gli assistenti dei direttori famosi e troverete sicuramente direttori di altissimo livello. Perché il direttore fa fare le prime prove all'assistente? E capita anche con direttori molto più giovani. Mi viene in mente anche una direttrice che fa le prime prove all'assistente e non le fa lei. Allora qual è la ragione per cui un direttore fa fare le prime prove all'assistente e non le fa lui? Fondamentalmente ci sono due due ragioni. La prima è che molte volte il direttore soprattutto quelli veramente veramente in carriera hanno talmente tanti impegni che molte volte hanno perfino difficoltà a incastrarli e per cui molte volte magari succede che la sera debbano fare un concerto e magari già al mattino dopo dovrebbero essere un'altra parte a provare. Allora magari prendendo un aereo insomma quindi per questioni meramente di tempo la prima prova o le prime prove le prime letture vengono fatte da un assistente e non dal direttore che poi farà il concerto. Questa cosa in realtà in origine era assolutamente normale soprattutto nei teatri d'opera non perché non per niente c'era la dicitura che ogni tanto si usa ancora ma più come vezzo che come altro che si diceva concertatore e direttore d'orchestra Mario Rossi. Il concertatore era quello che faceva le prove e che concertava appunto quindi come dire metteva insieme l'orchestra e verificava che non ci fossero errori nelle parti eccetera eccetera e il direttore d'orchestra era quello che poi faceva il concerto. Oggi come oggi si usa sempre meno la figura del concertatore ma si usano invece spesso le figure degli assistenti. L'assistente è molto importante perché come ho detto prima molte volte è quello anche che va a scovare degli errori che magari ci sono nelle parti dell'orchestra e questa cosa ovviamente evita brutte figuracce al direttore dell'orchestra titolare che magari rischia di non accorgersi che il terzo corno deve far si bemolle e nel tutti magari questa cosa gli può sfuggire. Invece l'assistente che ripeto è uno generalmente molto bravo con un ottimo orecchio e con un'ottima capacità direttoriale queste cose generalmente le scova se sono da scovare già nelle prime letture e quindi quando arriva il direttore l'orchestra è già pronta. Mi viene un po' in mente che questa è la funzione del ruffiano. Non so se sapete cos'è il ruffiano. Il ruffiano è quel cavallo che viene messo vicino alla cavalla prima che arrivi lo stallone. Lo stallone dovendo coprire tante cavalle non deve stancarsi troppo per cui il ruffiano viene come dire viene utilizzato per portare la cavalla ai giusti regimi e quando è poi il momento tolgo un ruffiano arriva il stallone fa il suo lavoro in cinque minuti e se ne va via. Ecco diciamo che più o meno succede la stessa identica cosa con i direttori di orchestra e gli assistenti. Poi vuol dire c'erano direttori di insospettabile bravura e di indiscusso carisma e talento come Masel che avevano gli assistenti quindi niente di male lui lo faceva veramente perché aveva talmente tanti concerti che insomma come dire le prime prove non voleva diciamo così perdere tempo poi insomma anche un po' in là con l'età magari insomma non voleva faticarsi troppo perché comunque non dimentichiamoci che l'attività al direttore d'orchestra è un'attività estremamente faticosa. Per cui il domingo viene chiamato a dirigere questo concerto. Il classico concerto sinfonico nella prima parte è un concerto per strumento solista e orchestra che viene fatto in questo caso con la pianista Maria Joao Piresh e nella seconda parte un programma tipico sinfonico in questo caso con la quinta sinfonia di Tchaikovsky. Solo che l'orchestra dice che domingo non arriva adeguatamente preparato alle prove che spesso si perde che spesso fa andare l'orchestra non fa andare insieme l'orchestra quindi l'orchestra si perde l'orchestra non va insieme insomma è questo capite che è un problema gigantesco addirittura qualcuno degli orchestrali diceva che in certi punti domingo era sul podio a provare durante le prove a dirigere e dietro c'era l'assistente che dava le indicazioni dava gli ingressi e cercava di mantenere come dire l'orchestra tutto insieme una cosa che per un direttore dire che è mortificante è un eufemismo vi assicuro è una cosa terribile allora è capitato a tutti quelli che fanno questo lavoro io per 12 anni ho fatto solo il direttore orchestra e ho girato il mondo dirigendo sinfonico dirigendo sacro dirigendo tantissime opere e così via e chiunque abbia un minimo di onestà intellettuale ammetterà che almeno una volta nella vita gli è capitato di arrivare a una prova d'orchestra non adeguatamente preparato a me è capitato in un paio di casi devo dire casi in cui magari hai preso un po' sotto gamba quello che dovevi dirigere o magari lo avevi diretto tanti anni prima ed eri convinto di ricordartelo e poi in realtà quando prendi la partitura non lo ricordavi così complicato così difficile così denso di altre cose invece soprattutto questo inizio di carriera e quindi non dovrebbe essere questo il caso del signor domingo ci sono degli errori di inesperienza perché tutti studi la partitura c'è il contrario di quello che fa un qualunque strumentista che si suona la sua la sua parte se la studia a casa quando la sta perfettamente bene sa che quando può andare in pubblico dovrà semplicemente rifare le stesse cose che ha fatto a casa e se a casa gli veniva signora maestra ma a casa mi veniva se a casa gli veniva dovrà venirli anche in concerto almeno per quanto riguarda un professionista il direttore è una cosa completamente diversa perché il direttore studia giorni settimane volte mesi una partitura ma finché non si troverà davanti all'orchestra non sa veramente se tutte le idee che si è fatto di concertazione e di direzione sono delle idee efficaci certo poi ovviamente con l'esperienza sai come affrontare certe cose sai come risolvere certi problemi sai che certe situazioni soprattutto in una partitura d'opera si risolvono in una certa maniera insomma un po di praticaccia alla fine insomma nessuna scienza infusa e nessun talento sciamanico semplicemente pratica 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 però resta di fatto che il direttore finché non è davanti all'orchestra non si rende conto sia studiato bene o studiato male quindi ripeto a me è successo un paio di volte di ritrovarmi di fronte all'orchestra non adeguatamente preparato e l'orchestra se ne accorge se il direttore non è adeguatamente preparato cioè forse il direttore come dire può prendere può menare per il naso magari qualcuno del pubblico ma vi assicuro che l'orchestra la radiografia al direttore soprattutto alla prima prova gliela fa in un minuto forse anche una stima un po generosa anche molto meno insomma e vi assicuro che non c'è niente di più mortificante che sentirsi inadeguati di fronte di fronte all'orchestra in più considerate che molti dell'orchestra magari di loro avrebbe voluto fare direttori e quindi pensate con che simpatia vi vedono se vedono che quello che è stato chiamato a dirigerli e che guadagna molto più di loro molto più di loro non è non è adeguatamente preparato non è come dire non ha preso seriamente l'impegno o peggio ancora non è tecnicamente in grado di affrontare quel pezzo e la quinta dice cos che insomma non è esattamente un pezzo da primo anno di conservatorio quindi già le prove non erano andate granché bene e alcuni alcuni orchestrali hanno scritto addirittura su un giornale su un giornale svizzero i loro commenti insomma non particolarmente lusinghieri nei confronti del domingo direttore io non ho visto concerto che non so come è andato so però che alla fine della del concerto quindi la fine della della seconda parte con la quinta sinfonia di di cecoschi dal pubblico sono levati un po di di sapori un po di dissensi qualche bu domingo insomma si è trovato abbastanza in imbarazzo ed è successo una cosa che ha reso ulteriormente più grande e più grave la situazione cioè il primo violino ha preso ed è uscito seguito dall'orchestra e questa è una cosa assolutamente irrituale cioè il direttore fa il suo concerto esce a prendere applausi al fine del concerto poi esce a prendere due due tre quattro chiamate cinque mille quelle che sono dopodiché con l'orchestra seduta dopodiché il direttore esce e dopo il direttore il primo violino si alza e porta via diciamo così l'orchestra che l'orchestra esca prima il direttore e lasci il direttore lì da solo a fronteggiare a fronteggiare il pubblico dire che sia il rituale è veramente un eufemismo è assolutamente non si fa non si usa e quindi ovviamente a riprovo del fatto che l'orchestra non aveva gradito per niente il direttore che era stato chiamato a dirigere e allora a questo punto è chiaro che ci vengono alcuni dubbi ci diciamo ma perché un artista del calibro di plassio domingo continua a salire sul palco col rischio prima o poi di caderci domingo lo sappiamo tutti ha fatto una carriera come tenore strepitosa va bene una delle delle grandi voci del secolo scorso una voce scura pastosa non aveva la non aveva la facilità di acuti un pavarotti non aveva forse la bellezza e l'eleganza del frase di un carriera sembra comunque una voce di primissimo di primissimo livello tanto è vero che i famosi tre tenori domingo carriera si pavarotti insomma sono diventati veramente famosi in tutto il mondo e hanno portato anche se vogliamo la lirica ancorché in una versione un po popolare comunque al grande 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 pubblico e questo è un merito che va riconosciuto a loro tre e a zoom in meta che era stato primo direttore di questa fortunata serie di concetti che hanno fatto in tutto il mondo dopo aver fatto una carriera che è durata decenni decenni come tenore a un certo punto domingo si è accorto che non ce la faceva più soprattutto nella fase acuta che ribadisco tra l'altro non è mai stato come dire il pezzo forte del della sua della sua vocalità per cui ha cominciato ad affrontare dei ruoli che non erano più da tenore erano ruoli da baritono con la convinzione che togliendo gli acuti allora poi la parte diventa facile in realtà non è esattamente così anzi non è per niente così la differenza tra un baritone e un tenore non è solo il tenore che il tenore canta più acuto c'è una differenza proprio di registro di note di passaggio adesso non voglio entrare in dettagli tecnici che alla maggior parte di voi non interessa però insomma non è solo una questione che gli ha come dire che il baritone è un po più basso e il tenore è un po più acuto vedere la cosa da questo punto di vista è assolutamente semplicistico e assolutamente non corretto per cui per diversi anni ha fatto come dire ha smesso di cantare i ruoli da tenore e ha iniziato a cantare i ruoli da baritono con alterne fortune diciamo che raramente ci sono sentiti dei consensi entusiastici per questa sua scelta però va bene questa cosa gli ha costituito di cantare un altro bel po' di anni dopodiché arrivati evidentemente nel punto in cui anche l'ergistro baritonale non gli veniva più particolarmente bene Domingo è deciso di prendere la bacchetta in mano allora nessuno mette in dubbio la musicalità e le capacità di Plassio Domingo ma fare il direttore non è una cosa che si improvvisa chiunque abbia fatto questo lavoro sa quanto è difficile, quanto è impegnativo quanto è facile sbagliare, quanto è facile cadere e alcune ragioni le ho dette a inizio puntata per cui ha iniziato a dirigere è chiaro che ci sono una serie di orchestre che non voglio dire che vadano da sole perché sarebbe ingeneroso nei confronti dei direttori, quelli veri, quelli forti che vanno a dirigere però è in dubbio che se si dirigono certe orchestre già il fatto che conoscono molto molto bene quello che dovranno suonare come dire aiuta, insomma sfido chiunque non adeguatamente preparato a montare un'opera difficile come può essere Tosco, Turandotte con un'orchestra che la sta leggendo per la prima volta sfido chiunque a riuscirci e quindi insomma con fortuna alterna Domingo ha fatto anche questa carriera di direttore nell'ultima parte della sua carriera attirandosi peraltro gli strali di tutti quelli che dicono ma perché non si ritira? hai fatto una carriera ultradecennale ma ultra ultradecennale di altissimo livello perché ti sputtani tanto per usare un francesismo facendo delle cose che non sono fondamentalmente il tuo lavoro allora perché un cantante perché un artista fa un percorso del genere? perché quando hai toccato l'apice poi fai cose di livello artistico sempre più basso perché la qualità di quello che tu stai proponendo al pubblico è sempre più bassa perché lo fai? ci sono fondamentalmente due ragioni la prima ragione ha a che fare con l'ego e con l'incapacità che hanno molti artisti di scendere da questo minetto palcoscenico questa cosa io la posso capire però io credo che a 80 anni dopo 60 anni di carriera uno dovrebbe anche avere il buon senso di mettersi da parte poi voglio dire la cosa è anche molto relazionata ai risultati che ottiene cioè Leonucci a 80 anni cantava ancora e canta ancora per certi versi in maniera splendida Marta Argerich a 80 anni suona ancora come un'indemoniata cioè se fra cent'anni a 180 anni l'Argerich suonerà ancora io voglio che la si continui a far suonare però detesto vedere delle vecchie glorie che dimostrano fondamentalmente di essere degli uomini e non quei super divi che per anni e anni noi abbiamo creduto essere questa cosa è mortificante poi ho letto anche ma come si riferisce all'orchestra giovanile ma che mancanza di rispetto nei confronti di un così grande artista in più avanti con l'età che non meritava questa mortificazione ma è lui che si mette in quella situazione per evitare quella mortificazione è sufficiente non metterci in quelle situazioni e nessuno ti mortifica anzi dove passi tutti ti rispettano ti onorano ti ossequiano come è giusto che un artista che ha avuto la tua carriera quel popò di carriera abbia gli spetta di diritto il punto però è che viviamo fondamentalmente in una gerontocrazia è una cosa che si vede nella musica classica ma si vede ancora di più nella musica leggera nel rock io ricordo quando ero ragazzo l'idea di un rocker quarantenne mi sembrava veramente balone diciamo da 40 anni cosa stai a fare il rock o il metal ma stai a casa a curarti la sciatica adesso che i 40 li ho superati da un bel pezzo mi rendo conto che uno 40 anni è oggettivamente giovane però sta di fatto che al netto di questa mia percezione poi si vedono gli Iron Maiden che hanno tra i 65 e i 70 anni che continuano a fare concerti di heavy metal i Rolling Stones che continuano a fare concerti rock che hanno 80 anni e finché come dire finché certo uno potrebbe dire ma finché c'è un pubblico che li segue e che paga un fior di biglietto per vederli che male c'è il male non è tanto per quanto riguarda i Rolling Stones è più un male per la musica classica che per la musica rock perché la musica classica avendo spesso contributi statali quindi pubblici o sponsorizzazioni private molto più che la musica rock dove si regge quasi tutto sullo sbigliettamento non per niente i biglietti costano così cari come dire secondo me una situazione che riceve dei soldi pubblici dovrebbe anche dare il giusto spazio ai giovani talenti e ce ne sono io vi assicuro che di bravi diciamo direttori per non dire cantanti pianisti quello che volete ma stiamo parlando dei direttori d'orchestra vi assicuro che di bravi talentuosi direttori giovani ce ne sono ce ne sono tantissimi addirittura ce ne sono perfino troppi ce ne sono talmente tanti che anche oggi un buon direttore potrebbe non avere non essere sufficiente a colmare certi vuoti quindi devi avere o essere veramente un fenomeno oppure devi avere come dire le spalle larghe le spalle coperte da un grosso sponsor o da un qualcuno che che è capace di spingerti ma è capace di spingere solo quelli bravi insomma poi ci sono anche dei casi insomma di direttori molto spinti e che non sono famosi per il loro talento naturale però di questo magari ne parleremo ne parleremo in una futura puntata quindi abbiamo detto la prima ragione è l'incapacità di scendere dal palcoscenico perché probabilmente questi grossi artisti non riescono a trovare l'umiltà di dire ho fatto tanto mi ossequono in tutto il mondo lascio spazio a dei giovani magari formo dei giovani e li lancio io ecco questa cosa mi piacerebbe fare mi piacerebbe vedere fare da un artista di 80 anni con quel papò di carriera sei stato un tenore strepitoso apri una scuola di tenori e lancia tu dei tenori perché no cioè io voglio vedere questa cosa questa sorta di mecenatismo dove non c'è dove il mecenate non deve come dire non deve pagare ma deve semplicemente mettere a disposizione la propria esperienza e la propria e la propria la propria fama ma non a fior di lezioni e migliaia e migliaia di euro gratuitamente perché i grandi hanno sempre insegnato musica gratuitamente ripeto quando sei arrivato in una certa posizione te lo puoi permettere e quindi diciamo se non scendi dal palcoscenico perché non riesci a staccarti e non riesci a capire che stai sottraendo dei posti a dei giovani talenti la mia stima per te non è altissima ma la mia stima per te è ancora più bassa se tu continui a lavorare per la seconda ragione cioè perché bisogna lavorare perché bisogna i soldi fondamentalmente e un artista di quel livello che ha guadagnato credetemi centinaia di milioni centinaia di milioni nel corso della sua carriera se ha 80 anni deve lavorare perché ha bisogno di lavorare allora veramente la mia stima lì per te è zero perché vuol dire che non hai saputo gestirti vuol dire che hai buttato via un enorme talento sprecando i soldi i soldi per me lo dicevo ognuno ci fa quello che vuole ma io credo che servono fondamentalmente per vivere bene per non farsi mancare niente se ne hai tanti spendere tanti e fare una vita anche piena di agi di comfort e tutto quello che vuoi ma devi comunque puoi avere voglio dire se ti sei giocato non giocato al tavolo a gioco ma insomma ma se ti sei speso e sprecato una fortuna di centinaia di milioni secondo me non sei una persona di qualità quindi partendo dal concetto come ho detto prima che a tutti può capitare di trovarsi di arrivare impreparati a una prova d'orchestra anche se un professionista o una roba del genere non dovrebbe farlo ma può succedere ripeto è successo anche a me quindi non voglio come dire nascondermi dietro un dito però domingo non è nuovo queste cose più di una volta è successo questa come dire questo problema l'ultimo successo l'anno scorso con l'orchestra di torre del lago per una recita di torrandotti in cui l'orchestra torrandotti per chi non lo sapevo è un'opera impegnativa da dirigere impegnativa da suonare impegnativa da cantare con mille problemi e mille situazioni che possono far andare a gambellare lo spettacolo cioè cosa vuol dire gambellare che i cantanti si perdono l'orchestra si perde metà l'orchestra non ha una cosa metà l'orchestra è una battuta prima cioè questo questo vuol dire perdersi quindi una cosa oltretutto mortificante e assolutamente dilettantesca cioè un'orchestra professionale diretta da un dilettore professionale non si perde insomma al netto poi dell'errore che fa parte dell'essere umano e tutto può succedere e la storia della musica in particolare dell'opera è piena di disastri e di cose che sono successe sul palcoscenico io stesso ne potrei avere da raccontare tantissime magari un giorno lo farò anche però al netto di questo insomma per un'orchestra soprattutto un'orchestra che conosce bene la parte che l'ha studiata bene lavorare con il direttore e rischiare di andare fuori per colpa del direttore e non per colpa dell'orchestra è chiaro l'orchestra su queste cose vi assicuro vi assicuro che l'orchestra sono pochissimi diplomatiche in queste cose diventano veramente cattivi e hanno ragione e già l'anno scorso c'era stato questo problema con Turandotti in cui praticamente l'orchestra più di una volta aveva rischiato di andare a gambe all'aria e poi non l'aveva fatto o non era successo semplicemente perché sconoscevano molto bene molto bene l'opera e quindi hanno evitato che il direttore che era sul podio sempre domingo facesse ulteriori disastri e c'era stata una querelle se vi ricordate poi c'era una polemica con l'orchestra che ha detto ah mi è assurdo che un direttore si presenti così non preparato eccetera eccetera per cui perché ti metti in quale situazione Placido perché ti metti in quale situazione perché ti fai mortificare così perché vanifichi una carriera di decenni e decenni non sarebbe meglio fare un passo indietro non sarebbe meglio dedicarsi a fare una serena vecchiaia non sarebbe meglio dedicarsi magari a lanciare qualche nuovo talento non sarebbe meglio dedicare la fortuna che hai accumulato in questi anni e se non l'hai accumulata veramente è solo colpa tua la fortuna che hai accumulato in questi anni ha qualcosa di più utile di più nobile ma fosse anche di stare a casa e ubriacarsi piuttosto cioè non dico che di fare forza il filantropo o dare in beneficenza quello che hai guadagnato per l'amor di dio li hai guadagnati goditeli ma goditeli non sottrarli agli altri non sottrarre lavoro agli altri non sottrarre occasioni agli altri soprattutto oggi perché tanti anni fa c'era comunque un mercato della musica classica lirica quello che volete comunque molto fiorente e che dava possibilità a tutti quelli che avevano un adeguato talento oggi no e se tu non capisci questa cosa stai sottraendo energie tempo e occasioni a persone che le occasioni che hai avuto tu non se sognano mai non se potrebbero sognare mai e sanno che la carriera che hai fatto tu probabilmente non riusciranno a farla mai e soprattutto arrivare dove sei arrivato tu all'età in cui ci sei arrivato e loro non ci arriveranno mai ci arriveranno forse 20 o 30 anni dopo io credo dovremmo pensare su questa cosa alla prossima lirica lirica lirica